Antonio Sepe ed il Nardò, un matrimonio che potrebbe finire nel peggiore dei modi. Scoppia la grana in casa Neretina, quasi alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro il Portici. Il difensore Uruguaggio, classe 1992, potrebbe partire e non mancherebbero anche dalla Lega Pro le sirene di mercato. Una situazione che alla società del presidente Donadei è piaciuta ben poco, tanto da ritenere il calciatore incedibile e che per preservarlo ha deciso di metterlo fuori rosa, almeno momentaneamente. Per mister Danucci, ad ogni modo, non è certamente una bella notizia. Sulla fascia sinistra di difesa le assenze numeriche iniziano a farsi sentire, al netto soprattutto del precedente addio di Spagnolo. Così, contro i campani, potrebbe essere spostato in quella parte di campo l'esperto De Giorgi, con Romeo pronto a completare al centro il reparto, assieme a stranieri, con cancelli spostato sulla destra. Quanto agli altri effettivi, a centrocampo viaggiano verso la riconferma Gallo, Scialpi, Mengoli e Caputo. In attacco spazio ancora Massali e Tornros. Arbitrerà la sfida contro i campani il signor Petrov della sezione di Roma 1. Fischio d'inizio al San Ciro alle ore 14.30.